Andrea Com'è? Com'è male? Raga, volevo ringraziarvi tantissimo perché mi state scrivendo in tanti come sto con la schiena E allora, ancora mi muovo tipo Robocop Quindi non granché, però sto migliorando Ovviamente questi giorni niente allenamenti Però comunque volevo farvi vedere qualche allenamento che ho fatto i mesi scorsi Delle schede da fare a casa per chi volesse allenarsi Che mi ha fatto sempre Alessandro, il ragazzo con cui faccio le dirette Quindi vi metto i miei allenamenti vecchi E poi vi fate sapere cosa ne pensate E poi vi fate sapere cosa ne pensate E poi vi fate sapere cosa ne pensate E poi vi fate sapere cosa ne pensate